Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie dedicata a Napoleone Bonaparte, di cui stiamo raccontando la storia partendo dagli esordi, se così vogliamo dire, da Napoleone bambino fino ad accompagnarlo agli ultimi giorni a Sant'Elena. La puntata di oggi sarà dedicata a due aspetti della vita di Napoleone, quello militare, le sue prime vere campagne, in cui pur non avendo direttamente il comando riuscirà a mostrarci tutte le sue qualità, e poi il Napoleone politico, perché, come spesso si racconta forse un po' troppo in fretta, nei primi anni in cui il Napoleone si affacciava alla vita pubblica in Francia fu più volte sul punto di rimetterci la testa, cosa peraltro abbastanza comune in uno stato come quello della Francia rivoluzionaria che vedeva un po' troppo cambiare i suoi governi. Se si sceglieva il cavallo sbagliato, il rischio era quello di perdere tutto, e ripeto, a volte anche la testa, e Napoleone purtroppo scelse il cavallo sbagliato un po' troppe volte. Ma un po' per fortuna, un po' per abilità, un po' per il buonsenso di riuscire sempre a risalire in groppa, riuscì a cavarsela, e da ognuno di questi passaggi a guadagnare un passo in più verso la gloria, e un passo in più verso la possibilità di dimostrare tutte le sue capacità. Nella prossima puntata, ve lo anticipo già, parleremo un po' più di Napoleone privato, ma ve lo dirò qualcosa di più verso la fine, ma ripeto, questa volta scopriremo un mondo, quello della politica francese, in cui muoversi era molto, molto difficile. Dopotutto, come diceva Napoleone, la politica altro non è che applicare il buonsenso alle grandi cose. Una cosa che non sempre lui farà durante tutta la sua vita, ma che in questa prima parte riuscirà a fare decisamente bene. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a raccontare. Avevamo lasciato un Napoleone vincitore dell'assedio di Tolone, che grazie alla capacità dimostrata in quell'assedio, alla sua inventiva, nello trovare quale fosse il punto debole delle posizioni inglesi, nelle sue capacità di comando, nella conquista di quel punto debole, e ovviamente nella cacciata della flotta inglese dal porto di Tolone, grazie a tutte queste sue qualità era riuscito a guadagnare una promozione, diventando ad appena 24 anni, nel 1793, generale di brigata. Una cosa che anche in un periodo come quello rivoluzionario, in cui i comandanti cambiavano spesso e si faceva presto a salire di grado, sicuramente non era comune. Una volta diventato generale di brigata, d'artiglieria ovviamente, venne aggregato all'Armata d'Italia, con il compito proprio di occuparsi di comandare le artiglierie. Non era esattamente il comando migliore, perché l'Armata d'Italia era in quel momento, alla fine del 1793, inizio del 1794, anche l'armata più immobile che aveva la Francia, perché se le armate interne, l'armata interna, come veniva spesso chiamata, si stava occupando dei ribelli, soprattutto della Vandea, i ribelli realisti e cristiani che combattevano nella parte occidentale della Francia, se l'armata del Reno continuava a sfidare austriaci e tedeschi sul Reno in Germania, l'armata d'Italia invece fino a quel momento grosse prove non le aveva date. Anche perché, come diceva il nome, l'obiettivo dell'armata sarebbe stato teoricamente quello di attaccare in Italia, quasi a creare un secondo fronte di attacco oltre quello sul Reno, per attaccare quello che all'epoca era considerato il principale nemico della Francia rivoluzionaria, cioè l'Austria, ma nei mesi da quando era stata creata, in realtà non aveva fatto grossi avanzamenti. Il primo nemico di quell'armata non erano gli austriaci, che erano già presenti in zona ma contro poche truppe, ma erano i Savoia, il regno di Sardegna, i piemontesi, scegliete voi come definirli così non usiamo sempre lo stesso termine, i quali ovviamente occupavano i territori al di là delle Alpi, i quali erano entrati in guerra, seppur con qualche tentennamento, contro la Francia e che, pur essendo stati costretti a sgomberare le zone che all'epoca facevano parte dei territori dei Savoia e oggi sono francesi a cominciare dalla cittadinizza, erano però riusciti a creare una specie di anello di difesa lungo le Alpi e a fermare qualunque avanzata francese. Non è che comunque la Francia si fosse molto impegnata in questa direzione, innanzitutto perché il generale dell'armata d'Italia, Pierre Dummerbion, non era esattamente noto per essere un generale molto coraggioso. Dummerbion per una volta era un generale di carriera, era veramente un militare, era un militare peraltro anche abbastanza anziano, aveva combattuto addirittura durante la guerra dei Sette Anni, aveva fatto carriera nell'esercito sotto il sovrano fino a diventare colonnello, ma poi era stato anche molto bravo ad annusare che l'aria stesse cambiando, saltare sul treno rivoluzionario e diventare quindi comandante per le armate rivoluzionarie. Dummerbion era un uomo che probabilmente aveva come principale obiettivo, data anche l'età, ripeto, non più giovanissima, quella di riuscire a portare a casa il collo da quello che stava facendo. E rezzosi conto di quanto i comandanti salissero rapidamente in auge con le vittorie, ma sprofondassero anche molto rapidamente con le sconfitte, con il rischio di essere destituiti, e poi uccisi, giustiziati per le loro mancanze, aveva sostanzialmente deciso di galleggiare in un'onesta mediocrità. Aveva catturato Nizza e poi si era fermato, un po' perché in effetti la situazione non era facile, con i piemontesi asserragliati sulle Alpi, gli inglesi che con la loro flotta gli avevano tagliato le vie di rifornimento e minacciavano le coste, vuoi perché molto spesso gli portavano via, gli avevano per tutto il 1793 portato via uomini per sedare le rivolte nel sud della Francia, buona parte degli uomini che attaccarono a Tolone provenivano in effetti dall'armata d'Italia, poi per tutti questi motivi Dumerbion aveva arrestato i suoi tentativi di attaccare in Italia. Come vi dicevo, assegnato a questa armata, Napoleone sicuramente non si trovava proprio nell'ambiente ideale, perché se non si combatteva lui non aveva modo di mettersi in mostra, e se non si metteva in mostra la sua scalata alle gerarchie militari si poteva anche fermare lì. Fortunatamente Dumerbion aveva un'altra caratteristica, cioè quella che si era ben presto reso conto che la sua opinione di militare valeva solo fino a quando non entrava in scontro con i veri padroni della Francia, cioè i politici, in particolare con i cosiddetti deputés à mission, cioè quei deputati che venivano mandati da Parigi per unirsi proprio alle varie armate, e il cui ruolo era un po' fare da collegamento tra il centro e la periferia, un po' trasmettere i piani del centro, un po' anche vigilare su come fosse l'operato di questi generali. Dumerbion aveva capito che la cosa migliore da fare era accettare i consigli che venivano da questi deputati. Ora, fortuna vuole, e nella storia di Napoleone di fortuna ce ne fu tanta, come lui stesso riconobbe, che i deputati in missione non erano niente popo di meno che Antoine Saliceti, cioè colui che era stato commissario in Corsica, deputato in missione a Tolone e che conosceva benissimo Napoleone, e Augustin Robespierre, che era il fratello del molto più noto Maximilien, che governava a Parigi, dove aveva instaurato il suo regime del terrore, e che anche lui conosceva Napoleone perché aveva, se ricordate, scritto quel libello, la cena a Bocquer, in cui aveva dimostrato di essere schierato dalla parte dei Giacobini. I Giacobini governavano a Parigi con Maximilien Robespierre, Augustin, Augustin ovviamente era anche lui un Giacobino, e questo aveva fatto entrare Napoleone nelle sue grazie. Inutile dire che quando Napoleone arrivò all'armata d'Italia, non ci mise molto a capire che le cose sarebbero potute essere anche condotte in maniera diversa, l'abbiamo visto succedere dovunque. Immaginatevi questo giovane ufficiale, con anche forse un po' di spocchia, ma sicuramente tanta capacità, che arriva e sostanzialmente dice quello che è stato fatto fino a questo momento non va bene, io lo so fare meglio. Bene, Napoleone fece probabilmente la stessa cosa, ma questa volta ebbe il vantaggio di avere l'appoggio dei due deputati, i quali lo ascoltavano, credevano in lui, anche perché loro conoscenze militari ne avevano pochissime, e riportavano le sue proposte al comandante, il quale si guardava bene dal contraddirli e accettava quello che Napoleone aveva da proporre. E in effetti Napoleone propose all'armata d'Italia un vero e proprio attacco. Ora, non è che anche lui non si fosse trovato di fronte a delle grosse difficoltà, la principale delle quali era quella che, dalla zona in cui si trovavano le truppe francesi, cioè la zona di Nizza, se si voleva minacciare Piemonte, la strada migliore per attraversare le montagne, non le si poteva scalare anche perché c'erano da portare delle artiglierie, era seguire il col di tenda strada, che oggi è parte della Francia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma che all'epoca faceva parte appunto del Regno dei Savoia. Il col di tenda però era protetto dai piemontesi, i quali si erano spostati, avevano lasciato Nizza, ma si erano stabiliti a Saorgio, un piccolo comune che esista ancora adesso, avrà 500 abitanti, che è proprio lungo la strada del col di tenda. Strada importantissima perché, partendo dalla zona di Cuneo, così ci capiamo, lo vedete sulla cartina, scende verso Nizza e verso Ventimiglia. Ora, da Saorgio, sloggiare i piemontesi era complesso, perché erano in una posizione già abbastanza in alto, e quindi già di per sé difendibile, ma che per di più erano riuscite a fortificare. C'era poi un altro problema, che l'armata d'Italia aveva fame perché aveva necessità di rifornimenti, rifornimenti che non riuscivano a giungere in toto dalla Francia, ma che per parecchi mesi erano stati acquistati dalla Repubblica di Genova, Repubblica che ufficialmente era vicina all'Austria ed era schierata contro la Francia, ma che poi non si faceva nessun problema a commerciare anche con i francesi. Peccato che la presenza di forze Savoia nella parte più occidentale della Liguria, che teoricamente era parte dei domini Savoia fino a Savona, e la flotta inglese nel Mediterraneo avessero bloccato questo collegamento. Per questo Napoleone decide di preparare un piano completamente diverso. Innanzitutto divide in due parti l'armata d'Italia. La parte più grossa vandrà a costituire una riserva e rimarrà a Nizza al comando del suo generale pronta di intervenire. Il resto invece, che verrà ovviamente separato in gruppi più piccoli, e questa sarà una caratteristica tipica del modo di ragionare tattico di Napoleone, far agire gruppi separati ognuno con il proprio obiettivo e mantenere una riserva strategica di modo da poter intervenire e far sì che questi gruppi fossero abbastanza vicini da potersi supportare l'un l'altro, ebbene, il secondo gruppo avrebbe dovuto invece non attaccare dove i piemontesi si aspettavano, ma attaccare in Liguria, attaccare nella zona di Ventimiglia, puntare su Imperia, in particolare su Oneglia, che è uno degli abitati che costituiscono la città di Imperia, da dove i Savoia avevano di base la loro flotta, e una volta ad Oneglia si sarebbe dovuto separare con una parte che doveva continuare a puntare lungo la costa con l'obiettivo finale di conquistare Savona, e un'altra parte, molto più importante, che avrebbe dovuto invece risalire le montagne puntando alla zona di Ormea, e quindi anche qua ad un passaggio verso il Piemonte, occupare questa zona, e in questo modo costringere i piemontesi a sloggiare dal Col di Tenda. Voi direte, perché dovrebbero andarsene dal Col di Tenda se uno occupa la zona di Ormea che è da un'altra parte? Perché da Ormea si fa molto in fretta a scendere verso la valle, e si arriva anche lì a Cuneo, quindi il rischio è che se i francesi arrivano a Cuneo e bloccano l'esercito piemontese alle spalle, questo non si può più ritirare. A comandare quest'ultimo braccio, ovviamente importantissimo, era forse quello più fondamentale dell'offensiva, Napoleone fece nominare una persona, una personalità decisamente molto affascinante che ci accompagnerà per quasi tutto questo viaggio. Un uomo che diventerà uno dei migliori, se non come riconosciuto da Napoleone, il migliore dei suoi generali, cioè Andrea Massena, che sarà poi soprannominato il figlio prediletto della vittoria. Andrea Massena, come dice il nome, era di origine italiana, in realtà veniva dalla zona di Nizza e volendo intraprendere la carriera militare, così come altri nella sua famiglia e altri nella sua zona, aveva deciso non di arruolarsi nell'esercito dei Savoia, ma di arruolarsi nell'esercito francese, nel cosiddetto Royal Italien, che erano dei soldati di origine italiana che combattevano per l'esercito francese, un gruppo che aveva la sua base a Tolone. Bene, all'interno di questi Royal Italien, Massena aveva già dimostrato tutte le sue capacità, senza però poter diventare un ufficiale perché non aveva origini nobili, ma quando era scoppiata la rivoluzione, questa sua mancanza era diventato, se possibile, un vantaggio e le sue capacità gli avevano aperto tutta una serie di strade. Era entrato dell'Armata d'Italia, aveva guidato, meglio partecipato all'occupazione di Nizza, ovviamente molto apprezzato, anche perché lui quelle zone le conosceva benissimo, e gli era stato dato il comando di uomini che erano stati mandati a supportare l'ultimo attacco, quello finale, a Tolone, dove aveva dimostrato tutta la sua capacità, meritandosi anche lui la promozione generale. Grazie a questo suo ruolo comanderà proprio le truppe dirette verso Ormea e lo farà benissimo. Nell'aprile del 1794 il piano di Napoleone entrerà nel vivo, un po' in ritardo rispetto alle attese a causa di nevicati un po' troppo abbondanti, e dimostrerà di poter funzionare benissimo. Le cose andranno come previsto da lui. La prima armata occuperà Imperia, si posterà addirittura fino a occupare Loano, minaccerà Savona che poi sarà conquistata, la secondo, il secondo gruppo guidato invece da Massena prenderà Ormea di slancio e lo farà talmente rapidamente che i piemontesi non riusciranno neanche a sgomberare tutto il loro esercito da Saorzo, permettendo al gruppo principale dell'armata di occupare quella zona senza nessun rischio. Napoleone a questo punto avrebbe voluto continuare. La strada verso Genova era aperta, quindi non c'era più grossi problemi di rifornimenti. Lo stesso Napoleone peraltro farà un viaggio a Genova di nascosto, ma approvato da Robespierre con cui non solo spierà le fortificazioni della città, ma addirittura prenderà contatti con il Doge cercando in qualche modo di avvenire ad un accordo di collaborazione, se non di diretta alleanza. Le cose non andranno benissimo, ma comunque ci saranno dei tentativi. Ma secondo Napoleone l'obiettivo grosso a questo punto sarebbero stati proprio i territori dei Savoia, quella valle piemontese dove l'armata d'Italia avrebbe potuto trovare tutto il nutrimento di cui aveva bisogno. Il piano che Napoleone preparò ad attuare per l'estate era un piano che ancora una volta prevedeva un attacco su più direzioni. L'armata che si trovava in Liguria avrebbe dovuto in parte risalire proprio verso la zona di Ormea. Un'altra armata avrebbe dovuto invece attaccare nella zona col di tenda e una terza armata che si sarebbe staccata dalla cosiddetta armata delle Alpi che si trovava più a nord avrebbe invece dovuto scendere dalla zona dell'Argentera. tutte e tre le armate si sarebbero poi concentrate nella zona di Cuneo e una volta riunite e quindi a questo punto raggiunto la loro massima forza e provenendo da tre direzioni diverse e questo avrebbe permesso di dividere le forze piemontesi ma anche di accelerare il passaggio delle Alpi una volta riunite avrebbero potuto marciare verso Torino. Il piano era sicuramente affascinante ma si scontrò contro un'idea molto diversa che invece avevano a Parigi questo perché a Parigi approvarono solo la prima parte del piano cioè l'idea di occupare la zona dell'Argentera e eventualmente in questo modo minacciare il Piemonte quello che invece a Parigi non andava bene era proprio l'idea di concentrare così tante truppe sul suolo italiano perché i generali che insieme al comitato di salute pubblica decidevano della grande strategia francese avevano invece l'intenzione per quel 1794 e 1795 di concentrare i loro sforzi più a nord in Germania nella zona del Reno e quindi non avevano nessuna intenzione di mettere a rischio le loro posizioni in Italia preferendo mantenere una postura difensiva per concentrarsi più a nord inutile dire che Napoleone considerò questa tattica completamente sbagliata scrisse una serie di documenti in cui spiegava le sue teorie in cui diceva chiaramente che dal suo punto di vista l'idea di concentrare tutte le truppe laddove gli austriaci se lo aspettavano sarebbe stato un disastro l'idea migliore sarebbe stata secondo lui attaccare in Italia una zona molto più facile da conquistare e in questo modo minacciare da su degli austriaci costringendoli a spostare truppe in Italia e rendendo più facile la vita invece sul Reno una tattica che metterà poi in pratica di lì a qualche anno e manderà Augustin Robespierre che era assolutamente convinto della correttezza delle idee di Napoleone a Parigi per cercare di convincere il Comitato di Salute Pubblica che le sue fossero le idee migliori è impossibile dire se ci sarebbe riuscito in effetti sappiamo che ci furono delle discussioni ma che non si arrivò a nulla il problema è che come vi dicevo la vita politica in Francia cambiava molto spesso se nel 1793 sbarazzandosi dei Girondini Robespierre aveva progressivamente acquisito potere con lui avevano acquisito potere altri come il fratello come Seingiust altri giacobini altri cordiglieri nel 1794 le cose stavano iniziando a cambiare perché a Parigi così come in altre zone della Francia se il regime durissimo di Robespierre il terrore andava benissimo nel momento in cui la patria era minacciata c'era rischio di invasione da stati stranieri varie rivolte erano scoppiate come ad esempio la Vandea molto meno accettabile era questa situazione quando invece la situazione aveva iniziato a calmarsi quando gli eserciti stranieri erano stati respinti quando la Vandea stava venendo sedata nel sangue quando le rivolte si stavano spegnendo e così l'approvazione verso il terrore verso le azioni dei Giacobini era progressivamente calata il 26 luglio del 1794 Robespierre aveva tenuto un discorso davanti alla convenzione nazionale al parlamento francese se vogliamo chiamarlo in questo modo in cui aveva difeso il suo operato aveva detto che era necessario riunirsi tutti insieme perché la guerra non era ancora finita perché le minacce per la rivoluzione erano ancora tante ma quel discorso era stato colto abbastanza tiepidamente il giorno dopo 27 luglio o il 9 termidoro secondo il nuovo calendario rivoluzionario che era stato creato e modificato rispetto a quello in uso fino a quel momento quando si era nuovamente presentato alla convenzione era stato accolto da bordate di fischi sia lui che i suoi compagni avevano cercato di riportare la calma era partita una discussione erano scattati attacchi verso di lui addirittura a un certo punto un deputato aveva cercato di aggredirlo con un coltello e alla fine era scattato un vero e proprio colpo di stato con lui San Giustem il fratello e altri giacobini che erano stati arrestati e il giorno dopo erano stati ghigliottinati inutile dire che la cosa travolse anche Napoleone che proprio perché passava per essere un generale giacobino nel giro di pochissimo passò da essere uno dei generali più apprezzati nell'armata d'Italia ad essere uno più a rischio lo stesso Saliceti che probabilmente sentiva anche lui un po' aria di ghigliottina e voleva far capire di essere fedele al nuovo governo il 6 agosto decise di catturarlo i rapporti tra i due non è che peggiorarono più di tanto probabilmente Napoleone capì le necessità di Saliceti e lo mise in galera accusandolo di tradimento perché? per quel famoso viaggio a Genova dicendo che era stato un viaggio che Napoleone poteva aver compiuto perché voleva tradire la Francia Napoleone passerà circa due settimane in galera e nonostante il fido Junot ve lo ricordate il suo aiutante di campo lo aveva conosciuto a Tolone avesse organizzato addirittura un piano per tirarlo fuori di prigione piano che però Napoleone assolutamente chiese di annullare e decise di non seguire anche perché probabilmente non è che stesse così male in prigione non doveva essere stato particolarmente tenuto male poter leggere e studiare vari libri dedicati alle passate campagne francesi in Italia e pensate quando poi diventò imperatore fece diventare il secondino della prigione uno degli impiegati dei lavoratori del suo palazzo quindi diciamo non doveva essere stato così male in prigione dopo due settimane però tutte le accuse caddero Sariceti riuscì a dimostrare le motivazioni per cui Napoleone aveva fatto il viaggio e lo tirò fuori di galera e lo fece un po' perché da una parte ripeto probabilmente i due erano legati un po' perché aveva bisogno di Napoleone perché mentre si discuteva Parigi e la proposta di Napoleone per un attacco definitivo in Italia cadeva completamente fuori dal discorso gli austriaci si erano riorganizzati gli austriaci in una prima fase non avevano preso parte direttamente a questi scontri anche perché seppur austriaci e piemontesi fossero teoricamente alleati in realtà non è che si guardassero tanto bene quando però i Savoia si erano resi conto dei rischi che correvano di fronte a un nuovo attacco francese avevano accettato che gli austriaci mandassero degli uomini a loro supporto e questi una volta entrati nella zona di Alessandria avevano deciso di puntare verso la Liguria passando dalla valle del Bormida perché è pratico della zona Cairo-Montenotte tutta quella acquiterme chiedo scusa Cairo-Montenotte e così via per poi puntare su Savona e da qui una volta riconquistata Savona spostarsi nuovamente lungo la costa la cosa era molto rischiosa perché innanzitutto Savona era una posizione ottimale per le armate francesi e così mantenevano i collegamenti con la Liguria ma soprattutto potevano bloccare un altro collegamento dal Piemonte un altro dei passi che arrivano in Piemonte e minacciare il Piemonte da un'altra direzione oltre al fatto che Savona era una posizione molto facile da difendere e da mantenere Napoleone decise quindi di creare molto rapidamente un piano e come farà tante volte nella sua vita invece di attendere e semplicemente difendere la posizione pur avendo ovviamente rafforzato la difesa di Savona decise di contrattaccare e invece di aspettare gli austriaci in città decise di attaccarli mentre stavano scendendo lungo la valle del Bormida aggredendoli lungo la strada quando ovviamente erano più allungati più separati e sconfiggendoli a Dego lo vedete sulla cartina dove gli austriaci subirono una discreta batosta furono costretti ad abbandonare 42 cannoni e a ritirarsi Napoleone ancora una volta la sua tattica non lui direttamente ma la sua tattica era riuscito a salvare la situazione l'arrivo degli austriaci aveva comunque reso la situazione critica perché pur essendo stati respinti ad Ego costretti a tornare ad Aquiterme continuavano a mettere a rischio le posizioni a Savona e per di più gli austriaci piemontesi avevano approfittato della situazione per rioccupare Ormea e quindi mettere a rischio il col di Nava potendo quindi prendere le truppe francesi alle spalle nella zona d'Imperia in tutto questo Napoleone fu però costretto a lasciare l'armata d'Italia Dumerbion che era stato sostituito da un nuovo comandante pur avendo scritto in maniera assolutamente molto onesta quali erano state le qualità di Napoleone non era riuscito ad aiutarlo più di tanto e così Napoleone era stato costretto a lasciare il suo ruolo ed era stato spostato a Tolone a comandare un gruppo di circa 10.000 uomini che sulla carta nel marzo del 1795 quindi di lì a 6 mesi 6-7 mesi avrebbe dovuto attaccare la Corsica il piano sulla carta era anche interessante riconquistare la Corsica togliere una base alla marina inglese nel Mediterraneo ed erano stati appunto preparati 10.000 uomini artiglieria tutte cose che avrebbero potuto facilmente conquistare l'isola non fosse che non era stato tanto considerato un aspetto cioè il fatto che la Corsica era appunto un'isola e che la flotta inglese era molto superiore a quella francese sia in qualità che in uomini tanto che quando si cercò di assembrare la flotta per far partire questa invasione il risultato fu una sconfitta francese che rese qualunque spedizione del tutto impensabile a questo punto Napoleone si trovò un po' senza lavoro e le cose peggiorarono quando in Francia si resero conto di avere un po' troppi generali di brigata d'artiglieria l'elenco era troppo grande molti di loro non avevano degli impieghi ovviamente gravavano sul bilancio statale e dato che Napoleone tra tutti questi generali di brigata era quello più giovane si decise di togliergli il comando come avrete potrete immaginare se avete seguito le scorse puntate la cosa Napoleone non andò giù per niente e cosa fece si presentò a Parigi siamo il 25 di maggio del 1795 fece il diavolo a quattro in tutti i modi per cercare di farsi riconsegnare il comando ma vuoi anche per i suoi legami con i giacobini l'unica cosa che riuscì ad ottenere fu quella di diventare se avesse voluto generale di fanteria ed essere mandato a combattere contro la Vandea quindi a combattere contro altri ribelli francesi la cosa a Napoleone non piaceva perché da una parte non era sua volontà suo obiettivo come lui stesso scrive scrisse andare a combattere quella guerra sporca contro altri francesi dall'altra parte si rendeva conto che avrebbe rischiato di andarsi a infilare in una situazione pericolosa con pochissime possibilità di salire di grado anche perché il comandante dell'armata che combatteva in Vandea era altrettanto giovane e difficilmente gli avrebbe lasciato il posto e quindi cosa fece? beh quello che faceva sempre Napoleone quando gli davano degli ordini che lui non voleva seguire si mise in malattia si mise in malattia si prese una licenza che in realtà passò a Parigi e per un po' fece finta di niente man mano che ogni volta che dall'alto comando lo chiamavano per fargli sostanzialmente una visita e capire perché non potesse tornare sul campo per mandarlo in Vandea non rispondeva semplicemente ed evitava di presentarsi in questo periodo scoprirà anche il motivo per cui vi erano così tanti generali di brigata d'artiglieria in Francia perché molti politici si erano auto assegnati quel grado e ovviamente per riceverne in cambio lo stipendio e la cosa aveva fatto lievitare le liste e non si mandavano a casa loro ma si mandavano a casa i veri generali come appunto Napoleone in questa fase come lui stesso scrisse era talmente abbattuto dalla situazione che giunse addirittura a pensare di dare le dimissioni lasciare l'esercito francese pare che valutasse una proposta di entrare nell'esercito turco quell'ottomano chissà forse affascinato dall'Oriente ma pare che avesse ricevuto anche la proposta opposta cioè quella di entrare nell'esercito russo per combattere contro gli ottomani e pare che addirittura avesse pensato di arruolarsi nella compagnia delle indie orientali inglesi in India che pare pagasse veramente tanto tanto bene venendo in questo dissuaso dalla madre Letizia Maria Letizia però su questo diciamo che le opinioni sono un po' discordanti a metà di agosto siamo sempre nel 1795 decisa alla fine di rispondere alla chiamata ma riuscì ancora una volta grazie alla sua parlantina ad evitare di essere spedito in Vandea e per un certo periodo essere assegnato al bureau topografic il bureau topografic fu un altro di quei periodi fondamentali per la formazione di Napoleone cos'era questo ufficio letteralmente l'ufficio topografico era un un ufficio se così vogliamo dire era un insieme di comandanti militari tra cui le migliori menti strategiche di Francia che sostanzialmente gestivano la grande strategia della Francia cioè non si limitavano ad organizzare le campagne per una singola armata o così via ma gestivano le campagne di tutta la Francia in che modo? beh semplicemente creando dei progetti che venivano poi sottoposti ai politici venivano sottoposti alla convenzione o meglio al comitato di salute pubblica che ancora in quegli ultimi mesi governava perché venissero approvati ascoltavano quello che giungeva dalla politica modificavano quelli che erano le proposte che avevano fatto e continuavano a proporre nuove idee che poi venivano distribuite sul territorio la cosa poteva se le menti a lavorarci poteva risultare problematica se non comprendevano qual'erano necessità delle varie armate ma se tutto questo funzionava permetteva invece di avere un'unica grande strategia con cui guidare tutte le armate francesi e nel periodo in cui Napoleone si trovò qua in realtà pochissimi mesi da metà di agosto a fine settembre inizio di ottobre in effetti si trovò a lavorare con dei colleghi assolutamente ottimi che gli spiegarono anche molto di alcuni aspetti che lui fino a quel momento aveva tralasciato nella sua formazione come ad esempio tutta la logistica necessaria a muovere un esercito è comunque un periodo difficile per Napoleone perché per quanto questo lavoro lo affascinasse per quanto gli lasciasse anche abbastanza tempo libero per tornare a scrivere era comunque un lavoro temporaneo e nessuno si era dimenticato del suo rifiuto di andare in Vandea tanto che giungeranno a cercare di cancellarlo ancora una volta dalle liste dei generali proprio per questa sua volontà di abbandonare l'esercito rivoluzionario ancora una volta però la politica gli venne in soccorso quella politica che lo aveva sollevato lo aveva battuto ora tornerà a sollevarlo che cosa era successo? beh come vi avevo raccontato la caduta di Robespierre aveva rappresentato anche la caduta di tutto un mondo politico all'interno della Francia in particolare aveva dimostrato che il comitato di salute pubblica cioè questo gruppo di deputati che era stato guidato da Robespierre che aveva governato la Francia per parecchi mesi non era più adatto a guidare il paese per questo era stata presentata preparata una terza una nuova costituzione francese che pensate siamo nel 1795 e la terza costituzione francese preparata dalla dalla presa della Bastia nel 1789 praticamente una costituzione ogni due anni questa nuova costituzione prevedeva da una parte di mantenere il parlamento che nasceva dalla convenzione nazionale ma di affiancargli un direttorio cioè un gruppo di cinque uomini politici che avrebbero a tutti gli effetti guidato il paese la nuova costituzione non piaceva a tanti non piaceva ovviamente a chi ancora appoggiava il sovrano i realisti che speravano che si potesse invece orientarsi verso una monarchia costituzionale non piaceva anche a coloro che pensavano che questo direttorio avrebbe tradito quelli che erano gli ideali rivoluzionari a tanti altri non piaceva come andava la Francia in quel momento perché le campagne militari si erano arenate sul reno addirittura gli austriaci si erano riavvicinati al fiume cacciando nei francesi l'economia andava male tanti erano stati morti durante il terrore ovviamente non erano stati dimenticati altri morti stavano avvenendo nelle rivolte insomma non era un periodo così buono e forse far passare una riforma così forte esponeva il governo a molti rischi a decidere di intervenire furono i realisti cioè coloro che ripeto appoggiavano un eventuale ritorno dei sovrani in Francia i quali però contattarono altri gruppi scontenti della situazione tra cui anche dei gruppi della guardia nazionale quindi dell'esercito francese e cercarono di organizzare una rivolta o meglio pensarono di organizzare direttamente un attacco al cuore del potere cioè alla convenzione nazionale che all'epoca si riuniva al palais de Tullerie che un tempo era stato uno dei palazzi reali del re francese oggi il palazzo non esiste più se andate a Parigi non c'è più perché nel 1870 circa è bruciato e oggi al posto ci sono le jardin de Tullerie che sono ovviamente nello spazio del palazzo ma per chi è pratico nella zona di Parigi i jardin si trovano molto vicino al Louvre tra il Louvre e la zona invece che va verso gli Champs-Élysées così ci capiamo all'epoca invece lì appunto c'era un palazzo un palazzo che date le sue dimensioni in caso di attacco sarebbe stato anche abbastanza difficile da difendere anche perché non si sapeva quanti uomini avrebbero potuto appoggiare questa rivolta in effetti nei primi giorni di ottobre iniziarono a divampare sempre più polemiche sempre più reparti della Guardia Nazionale si univano a rivoltosi sempre più realisti o semplici manifestanti iniziavano a parlare apertamente contro l'Assemblea Nazionale e il 5 ottobre 1795 fu chiaro che ormai la situazione stava esplodendo la convenzione chiese a uno degli uomini che avrebbero dovuto diventare parte del direttorio cioè Paul Barrat di trovare una soluzione di organizzare la difesa e di impedire che avvenisse questo colpo di Stato Paul Barrat dal punto di vista militare non ne sapeva niente era bravo in politica era bravo a procurarsi del denaro ma diciamo che a combattere non se la cavava e quindi dato che era stato nominato comandante della difesa del Palais de Tuileries decise di trovarsi un buon vicecomandante se ricordate la scorsa puntata Paul Barrat aveva conosciuto a Tolone un giovane ufficiale corso di artiglieria ne aveva apprezzato le doti ne aveva apprezzato la decisione e caso vuole che quel giovane comandante corso di artiglieria intanto diventato generale si trovasse proprio lì a Parigi e non avesse in quel momento nient'altro da fare era Napoleone il quale il giorno precedente aveva capito quello che stava succedendo ed era peraltro corso a mettersi a disposizione del governo per fermare la rivolta e Paul Barrat decise di dargliene il compito ora se ricordate due puntate fa Napoleone aveva già assistito ad un attacco contro Palais de Tuileries quando i rivoluzionari la popolazione di Parigi aveva preso d'assalto il palazzo e ne aveva tirato fuori la famiglia reale in quel caso aveva già commentato che secondo lui era stata difesa il palazzo in maniera errata che i soldati fedeli al sovrano avrebbero potuto impedire alla folla di conquistarlo insomma che non è che fosse stato fatto un grosso lavoro e chissà che quel giorno quel 5 ottobre o come passato alla storia il 13 vendemmiaio anche in questo caso per il diverso calendario rivoluzionario chissà che in quel giorno non se ne sia ricordato di uomini non ne aveva molti se da una parte i ribelli si stima che fossero circa 30.000 e tra questi c'era sicuramente della semplice popolazione ma c'erano anche dei soldati a Napoleone vennero dati inizialmente appena 4500 uomini a cui lui aggiunse altri 1500 volontari tra virgolette che vennero raccolti nelle all'esimvalide lì vicino con questi 6000 uomini però difendere una struttura così grande non sapendo dove sarebbe avvenuto l'attacco sarebbe rimasto molto difficile sarebbe rimasto molto difficile anche perché non aveva a disposizione dei cannoni fortunatamente Napoleone anche questa è una caratteristica di tutta la sua vita aveva una gran memoria per questi particolari e si ricordava benissimo che non molto lontano da lì a Sablons vi erano dei cannoni cannoni dell'esercito che lui almeno sperava non erano ancora caduti nelle mani dei ribelli bisognava però procurarseli e per poterseli procurare dato che lui non poteva allontanarsi dalla zona ci voleva un uomo deciso e in quel caso incontrò perché gli era stato affidato un giovane ufficiale di cavalleria chiamato Gioacchino Murà Gioacchino Murà ha una storia meravigliosa la scopriremo anche ovviamente la sua il proseguo durante le puntate ma Gioacchino Murà pensate che era l'undicesimo figlio l'undicesimo e ultimo figlio di una coppia di locandieri quando era giovane i genitori avevano cercato di farne un prete lo avevano mandato in seminario ma Murà non aveva nessuna intenzione di farsi prete e per quello ne era uscito e si era unito all'esercito in particolare alla cavalleria che dato il suo modo di fare molto deciso molto focoso sicuramente era adatta a lui le cose non gli erano andate benissimo anche perché era di animo ribelle ma soprattutto si era rapidamente avvicinato alla rivoluzione e per questo era stato lasciato a casa dall'esercito francese una volta lasciato a casa aveva inizialmente cercato di tornare alla locanda paterna ma il padre gli aveva detto che assolutamente no lì non sarebbe tornato aveva fatto per un po' il cameriere aveva lavorato in altre locande ma quando poi era nato l'esercito rivoluzionario si era unito rientrando in cavalleria così come Napoleone gli aveva chiesto Murat fu una furia raggiunse Sablon si disfece delle poche truppe che erano a difesa convincendole a dargli i cannoni e portò i cannoni da Napoleone difendendoli da qualunque tentativo di impossessarsene da parte dei ribelli con quei cannoni Napoleone praticamente circondò le varie entrate del palazzo disponendole ad ogni ingresso e preparandoli a sparare sulla folla ora Parigi di scontri in quegli anni ne aveva vissuti tanti aveva anche vissuto delle cannonate in un senso o nell'altro ma c'era una cosa che nessuno aveva mai osato fare perché i cannoni si possono usare in mille modi ma se hai un grosso quantitativo di truppe o una folla che ti sta venendo incontro la cosa migliore che tu possa fare è caricarli a mitraglia cioè caricarli con dei proiettili che contengono all'interno dei pallini più piccoli che al momento dell'esplosione partono è ovviamente un colpo che deve essere sparato a breve distanza ma che contro degli della fanteria o semplice popolazione può fare una quantità enorme di morti ora nessuno fino a quel momento neanche le truppe del sovrano avevano mai osato fare una cosa del genere a Parigi Napoleone invece che come sempre guardava semplicemente il risultato decise di farlo fece caricare i cannoni a mitraglia e si fermò ad aspettare quei 5 ottobre si susseguirono tutta una serie di eventi non ve ne sto a raccontare perché andremo troppo per le lunghe ci furono dei tentativi di trattativa ci furono dei tentativi di accordo politico ma quando nessun accordo venne trovato i 30.000 rivoltosi presero d'assalto le posizioni di Napoleone e Napoleone per due ore senza nessuna pietà li respinse fece avanzare i rivoltosi li fece avvicinare a 300-400 metri e poi ordinò di aprire il fuoco facendo un vero e proprio macello che gli sarà peraltro ricordato per tanti anni e sarà ricordato per tanti anni da coloro che vedevano in Napoleone un mostro quel macello fermerà la rivoluzione i 300 morti e chissà quante centinaia di feriti che gli scontri causeranno a tutti gli effetti impedirà ai rivoltosi di prendere potere difenderà la convenzione nazionale e spaccherà quel fronte che cercava di impedire la nascita del direttorio secondo alcuni quel giorno tra la mitraglia di Napoleone e le sciabole dei cavalieri di Murat che Napoleone utilizzava per colpire coloro che fuggivano o se si creavano delle concentrazioni troppo grosse di ribelli di fronte a questi attacchi moriva secondo alcuni la rivoluzione francese anche perché da questo momento in poi grosse altre rivolte a Parigi non ci saranno e i cambiamenti dal punto di vista politico avverranno sempre nei palazzi del potere come vedremo protagonista di molti di questi cambiamenti sarà proprio Napoleone Napoleone però aveva dimostrato ancora una volta di poter essere fedele al potere politico Barrà grazie a questa vittoria ovviamente diventerà uno degli uomini forti di Francia e con sé porterà Napoleone convinto che Napoleone sarebbe stato una fedele spada come lui amava dire o un fedele cane da guardia come qualcun altro invece lo definiva senza sapere che un giorno Napoleone avrebbe messo il suo la sua importanza il suo ruolo politico prima di quello di Barrà ma insomma c'è ancora qualche gradino per arrivare a questo punto della storia la racconteremo nelle prossime puntate prima di chiudere come sempre chiudiamo qualche storia qualche storia secondaria per carità ma che merita di essere raccontata nel 1794 morì il barone di Thail quello che era stato il maestro di Napoleone che venne in realtà ucciso proprio perché aristocratico considerato non abbastanza fedele alla rivoluzione Dumer Bion invece il comandante dell'armata d'Italia che aveva Napoleone sotto di sé continuerà a comandare fino al 1795 quando poi andrà tra virgolette in pensione e morirà nel 1797 gli altri protagonisti di questa nostra storia a parte quelli di cui abbiamo già raccontato alla fine come Agustin Robespierre che morirà insieme al fratello Ghigliottinato Guoculice che abbia anche tentato di suicidarsi la sera prima ma non è ben chiara come cosa di qualcuno abbiamo già raccontato alla fine altri come ovviamente Massena Murat e altri invece li vedremo ancora nelle prossime puntate io intanto però per ora mi fermo qua grazie a tutti voi per essere arrivati fino a questo punto nella prossima puntata come vi avevo detto copriremo qualcosa di più del Napoleone privato continueremo il nostro viaggio nella politica ma ci concentreremo più sulla vita privata di Napoleone perché è tempo di introdurre un altro personaggio della nostra storia cioè Giuseppina perché quella di Napoleone Giuseppina al netto del modo in cui è stata resa ad esempio nel film Napoleon di Ridley Scott è una storia veramente molto bella che in qualche modo merita di essere raccontata lasciatemi come sempre ringraziare anche abbonati Patreon e chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti in particolare oggi vorrei ringraziare Luca Bargossi grazie mille tantissimo per il tuo aiuto per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle Pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con un nuovo Pidola di Storia ci vediamo mercoledì prossimo per la prossima puntata dedicata a Napoleone a presto ciao ciao ciao